sono diventati clown che una volta cinque o sei generazioni fa eravamo saltatori e croti era per poter continuare in sto mestiere mio paolo papà lui aveva iniziato a 66 anni faceva contorsionista faceva cavalli cavallerezza saltatore buona mera a trent'anni aveva già tutte le gambe rovinato e vera con la storia papà che mi raccontava il loro adesso vagamente me la ricordo quella che il nostro trisavolo aveva il ristorante tre vecchini a bologna e che i suoi erano due figli ecco che è deciso di partire con una troupe di una compagnia di saltimbanchi e che il vecchio asterni non li volle lasciare andare e loro salirono sulla torre degli asinelli e minacciarono di buttarsi qualora non fossero lasciati è quello è stato il partner del nonno a implicarsi ecco c'era quello che si impiccavano e allora il nonno aveva un partner si chiamava cioccolata aveva trovato in brasile avevano fatto conoscenza e lui si era poi aggregato al nonno e questo ragazzo vide sto sto impiccato che volle provare anche lui che si è attaccato dietro alla casa un albero cosa l'hanno visto che stava diventando già blu forse con un息acchi in terato vivo numero di interato vivo A presto. A presto. A presto. A presto.